A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Immaginate una staffetta appunto immaginaria tra Mennea, Bolt e Carl Lewis. Beh, la staffetta passa nord-centro-sud, Mennea ovviamente è il sud, il nord magari scegliete voi, tra Bolt e Carl Lewis. Beh, la staffetta questa volta passerà di nuovo al nord. La pioggia passerà di nuovo al nord perché al centro e al sud la situazione è andata migliorando dopo le ultime piogge e invece avremo un nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali e anche sul nostro territorio. Quindi non ci sarà instabilità, ci sarà proprio maltempo perché avremo cielo molto nuvoloso coperto, piogge rovesce anche temporali, localmente anche qualche grandinata. Insomma, una situazione tutt'altro che estiva. Staffetta che passa al nord, poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni al centro e al sud. Probabilmente rimarrà della instabilità, non del maltempo, però guardate, temperature che ovviamente tenderanno a calare. Insomma, prendiamoci questa purtroppo brutta domenica in casa. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.